Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Nocciolino24, il più vagabondo di YouTube. Oggi voglio rispondere ad Alberto che mi ha contattato sulla fanpage di Facebook se non ti sei ancora iscritto fallo adesso, trovi tutti i link nell'info box qui sotto chiedendomi in che mese è meglio partire per Londra. La risposta è molto semplice e diffidate da chi fa finti spamracchi sui vari social network. In realtà queste persone vi temono perché magari siete più belli, più giovani e sicuramente con molta più grandità di loro. I mesi migliori per partire si dividono in due fasce temporali, quelli estivi e quelli invernali. Quindi da giugno fino a settembre se decidete di partire durante le vostre pause universitarie o comunque scolastiche altrimenti da novembre fino a marzo se preferite partire d'inverno. Come potete sicuramente ben immaginare durante il periodo estivo le strutture ricettive sono alla ricerca di molte più persone in funzione del fatto che ci sono molti ma molti ma molti più turisti. Siate furbi! Se cercate maggiori informazioni potete scaricare la guida in maniera totalmente gratuita dal link che vi metto in descrizione o nell'info box qui sotto. E ricordatevi che Londra è dietro l'angolo. Cambia la tua vita con un click.